In occasione del bicentenario dell'arma dei carabinieri e per ricordare nella sua città natale Gian Battista Scappaccino, prima medaglia d'oro dei carabinieri e dell'esercito, è stato inaugurato nell'Astigiano, a Incisa Scappaccino, il santuario della Virgo Fidelis, unico in Italia dedicato alla patrona dell'arma. Tra gli ospiti anche Andrea Bocelli. Con l'occasione è stata esposta la mostra fotografica sui due secoli di storia dei carabinieri dell'Italia, realizzata dall'ANSE e dal Consiglio regionale, rassegna che è stata poi allestita anche a Cassagnole-LANSE.